Sono 25 le coppie di italiani bloccate a Kinshasa, la capitale del Congo, e dalle notizie in nostro possesso ci sarebbero anche delle coppie pugliesi. Non riescono a tornare in Italia con i loro 32 bambini adottati a causa delle lungaggini burocratiche. Neanche l'intervento del ministro per l'integrazione, Cecil Kienge, che è di origine congolese, è riuscito a sbloccare, come era apparsa in un primo momento, l'iter per la conclusione delle adozioni. Le autorità africane hanno paura che i piccoli possano essere messi in adozione nuovamente. L'appello a petizione è stato lanciato su internet da alcune associazioni, come ad esempio Mamme Online e Famiglie Adottive. I fatti sono noti, si legge nell'appello. A fine settembre le autorità congolesi hanno disposto il blocco delle adozioni, salvo poi permettere alle coppie che già avevano completato la pratica documentazione di concludere il loro iter adottivo. Una concessione che però, per il momento, non ha avuto un riscontro concreto con la realtà, poiché numerose famiglie sono ancora in Congo. Stando ai contatti vivono situazioni difficili con farmaci che mancano e acqua che latita. E nel frattempo attendono speranzose che arrivino i permessi di uscita dal paese per i loro bambini. Quanto alla mobilitazione della Kienge, le associazioni ritengono che non sia sufficiente. Dobbiamo mobilitarci tutti insieme, dicono nell'appello, perché si arrivi all'epilogo felice di questa vicenda che ha del surreale. Perché è semplicemente inaccettabile che una famiglia non possa uscire dal Congo per raggiungere l'Italia, il loro paese. Grazie. 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 Grazie.